Buona serata a tutti dall'ippodromo del Savio comincia la riunione di questa sera e cominciano anche le lettere pulite di due anni ricordiamo che i cavalli di due anni possono cominciare a correre dal primo luglio quindi questa è proprio la primissima corsa per i puledri sono rimasti in cinque dopo il ritiro del numero uno con l'uno electric dl vincenzo piscuoglio 2 3 e linda maurizio cheli 4 elton pradgai lorenzo baldi 5 nsl antonio di nardo 6 ecce bombo jet andrea vitaliano rinuncia al lancio enea sl veloce elton pride gar cerca di scavalcare e la linda manovra che riesce poi a largo è partito forte anche ecce bombo jet siamo sulla curva con poi in terza posizione electric dl ma rompe come aveva fatto nella sgambatura di un'oretta fa e numero 5 nsl squalificato quindi primi 200 metri in 16 2 con in vantaggio elton pride gar si è rimesso ecce bombo jet che è ancora quarto e non è stato squalificato seconda posizione per e la linda intanto 400 metri che va in via molto lenti in 35 2 con in vantaggio elton pride gar su e la linda poi in terza posizione electric dl e ce bombo jet un po indietro intanto 47 scarsi c'era un piccolo problema al cronometro ufficiale o nel mio cronometro 47 scarsi per elton pride gar che conduce sempre con una lunghezza su e la linda poi electric dl ce bombo jet il giro in 132 con in vantaggio sempre lorenzo baldi con questo figlio di wish in stone che conduce sin dal via e la linda in seconda posizione davanti a electric dl ce bombo jet posizione ormai cristallizzate 1 19 3 il chilometro di elton pride gar che ora allunga stenta a tenere il ritmo e la linda poi si cerca di ritornare in avanti dopo l'errore ce bombo jet retta di là passata da elton pride gar in 14 9 siamo sull'ultima curva vantaggio importante l'allievo di lorenzo baldi gli altri sono un po indietro cercano di riorganizzarsi ma elton pride gar è ancora padrone della situazione ultima curva passata in 15 7 retta d'arrivo elton pride gar in vantaggio deve solo far scorrere metri lorenzo baldi mentre e la linda è ancora buona seconda su electric dl ecce bombo jet vince in 2 5 scarsi elton pride gar lorenzo baldi che ne cura anche il training per la scuderia comiantale sas di giacomo siddi un figlio di wish in stone galaxy brown che dopo buona qualifica viene a vincere molto bene la prima corsa in italia per i cavalli di due anni elton pregar alla prima di cesena grazie 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 tre